Ciao sono Luca di Mister Gadget, torno a parlarvi di un prodotto che avete già visto nei giorni scorsi nel momento del suo lancio a Monaco di Baviera andiamo ad approfondire la conoscenza di uno dei migliori prodotti del mercato è il nuovo Huawei Mate 10 Pro allora ecco il pacchetto che porta e che porterà tra qualche settimana in Italia il nuovo Huawei Mate 10 Pro questo è un oggetto molto bello, lo dico subito, a me piace particolarmente qui lo vedete nella sua colorazione mokka, forse non la più bella in circolazione dal mio punto di vista il più bello in assoluto è il colore azzurro diamo un occhio a quello che c'è dentro la confezione ci sono dei dettagli molto importanti da conoscere perché intanto vediamo che c'è questa cover che vi mostro immediatamente la estraggo, vi faccio vedere anche com'è il telefono quando viene vestito con questa cover in silicone vedete il telefono rimane molto carino anche con la cover in silicone gradevole per come costruita bella anche al tatto e tutto sommato non toglie niente del design del telefono dentro la confezione anche intanto un adattatore da USB Type-C ad attacco per 3,5 mm perché non ci sono le cuffie, non c'è l'attacco delle cuffie 3,5 mm poi lo andremo a vedere e poi il caricabatterie Fast Charge di Huawei attenzione perché la carica Fast Charge funziona solo con il suo cavo senza il suo cavo, il caricatore invece la carica viene normalmente e poi ci sono queste cuffiette la cui forma mi ricorda qualche cosa ma adesso insomma non ci voglio pensare più di tanto allora vediamo intanto togliendo questo connettore scusate state vedendo le riprese più strampalate del mondo vediamo allora dunque questo prodotto con le sue caratteristiche fondamentali allora parte posteriore vedete con la soluzione molto carina tra l'altro al tatto con questa banda che è un po' il segno di riconoscimento di Huawei Mate 10 sensore delle impronte digitali, doppia fotocamera posteriore sapete che la doppia fotocamera posteriore tra l'altro ha una caratteristica che è quella di un sensore da 20 megapixel e un sensore da 12 megapixel abbiamo il puntatore per le foto dunque il puntatore laser e da questa parte invece il flash a due toni il telefono ha un pulsante di accensione in questa posizione laterale insieme al volume rocker mentre sull'altro lato c'è il posizionamento del cassettino una nano sim e una micro sd oppure due nano sim all'interno peraltro poi andremo a vedere ancora cosa importante sulla parte superiore vedete il sensore a infrarossi e il microfono per il bilanciamento del rumore sulla parte frontale anche la fotocamera fotocamera frontale da 8 megapixel torniamo un attimo qui sul retro per vedere il dettaglio di questa doppia fotocamera posteriore quella da 20 megapixel e da 12 megapixel attenzione perché la caratteristica eccezionale di questa fotocamera realizzata insieme a Leica è che ci sia un'apertura 1.6 su entrambi i sensori c'è la stabilizzazione ottica il face detection come detto l'autofocus fatto con il laser è veramente una fotocamera di altissimo livello la seconda in assoluto secondo di ExoMark con un punteggio pazzesco di 97 ma attenzione il punteggio di 97 arriva da un punteggio di 100 addirittura per le foto e di 91 per i video non viene fatta una media algebrica ma essenzialmente insomma il punteggio globale complessivo del prodotto dunque è quello di 97 eccezionale 64 giga di memoria con 4 giga di ram a bordo oppure 128 giga di memoria con la disponibilità di 6 giga di ram allora ci tengo a dirvi una cosa importante quello che vedete in questo momento scusate perché vado a vedere invece qua quello che vedete in questo momento non è il suo launcher principale io uso Nova Launcher che mi piace tantissimo torniamo al launcher principale di Huawei che vedete per la prima volta introduce anche il no no non è per la prima volta in realtà però introduce anche il fatto di avere la zona Google Now per i paesi in cui ho supportato c'è anche il supporto per l'assistente di Google e sapete che la caratteristica fondamentale è che questo telefono è costruito con un processore che è il Kirin 970 che ha anche un'unità per i processi neurali poi andremo a vedere cosa significa velocità del telefono assolutamente elevatissima in tutte le sue funzioni vedete in questo momento il telefono nel suo movimento ma insomma non è cercatamente vedendo questo genere di operazioni che potrete decidere se è veloce o lento il processore però di fatto quando attivate ad esempio la fotocamera vedete insomma che l'accesso è praticamente immediato allora immagini in movimento sono le live photos di Huawei la modalità portrait che è quella realizzata insieme a Leica in pratica viene evidenziato l'effetto bocchè l'apertura ampia invece altra possibilità che avete sulla fotocamera poi se non vi bastano queste avete la possibilità di utilizzare la modalità Pro quindi di poter governare tutte le funzionalità che sono a bordo del vostro telefono come se quasi aveste una DSLR come dicono quelli bravi non vi bastano tutte queste funzionalità avete una tonnellata ma letteralmente una tonnellata di opzioni disponibili sul telefono e da questa parte poi invece la gestione di tutte le altre funzionalità tra cui ad esempio anche la risoluzione delle foto vedete che potete scegliere tra 16 noni e 4 terzi non c'è invece la possibilità di usare il 18 noni quindi riempiendo tutto lo schermo come invece vi da LG a proposito di LG vorrei farvi notare una cosa perché sapete che questo telefono ha una diagonale da 6 pollici con una proporzione 18 noni esattamente la stessa misura che ha anche LG V30 che però ha una definizione superiore e guardate anche la misura di LG V30 che è leggermente più corto oppure avendo lo stesso tipo di diagonale quindi questo vuol dire che c'è una migliore ottimizzazione a livello di larghezza è leggermente infinitissimamente più stretto il Mate 10 che però poi ha anche uno spessore superiore 7,4 contro 7,9 mm vi faccio vedere sblocco anche il sblocco anche questo prodotto vediamo sblocco tutti e due i telefoni vedete messi uno di fianco all'altro certo non c'è lo stesso sfondo quindi è difficile insomma vedere la differenza però essenzialmente vedete l'impatto è molto simile come dimensione del display praticamente identico mentre vedete che le cornici sono un po' più generose sul Mate 10 Pro fotocamera ecco questa è una delle caratteristiche perché quando voi utilizzate la fotocamera in modalità foto quindi in modalità automatica essenzialmente avete la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale allora io metto una penna in questo momento qui davanti e non succede assolutamente niente se compare del cibo il telefono praticamente è settato cibo ma potrebbero anche altre essere altre situazioni il telefono è settato per riconoscere che ambientazione c'è e quindi darvi essenzialmente l'applicazione di determinate settaggi della fotocamera come esposizione velociluminosità colori per cui la foto diventa sempre ottimale vorrei farvi vedere qualche risultato di questo tipo è questa foto che ho scattato ad esempio ieri sera alla mia insalata con le noci e con le mele vedete allora i colori ad esempio della verdura vengono esaltati questo è un lavoro che viene fatto in tempo reale dal processore quando voi utilizzate l'intelligenza artificiale del processore torniamo un attimo invece al sito internet in questo caso il sito internet è di radio number one voi non avrete l'altra radio di fuori di radio number one perché se l'avrete vi si bucheranno le gomme quando meno ve le aspettate vedete in questo momento io ho essenzialmente piazzato radio number one come sito internet ecco che è arrivato il player e adesso lo attiviamo immediatamente accendiamo un player l'audio viene da qui allora è un audio con un'ottima definizione dei bassi c'è da dire tra l'altro che questo telefono ha anche una cura dell'audio pazzesca con l'uscita in high resolution audio questo è molto importante suono che arriva a 384 kHz con un'attivazione a 32 bit è veramente fantastico c'è anche la possibilità tra l'altro di avere per le cuffie l'active noise cancellation è questo nella confezione che avrete nei negozi ecco oltre a questo tra l'altro vi segnalo che c'è la USB type C nella parte inferiore del telefono è un USB 2.0 in questo caso pur avendo l'attacco type C che adesso insomma ci fa trovare spesso nei telefoni invece la versione 3.1 il software invece bluetooth è il 4.2 con la soluzione anche aptX HD che vuol dire che il che vuol dire che la trasmissione in audio è in assoluto migliorata menu del telefono che vi mostro subito con la possibilità di scegliere anche passando da una lettera all'altra delle vostre applicazioni il menu è quello che conosciamo abituale di Huawei che è stato leggermente adattato ecco per quanto riguarda il software tra l'altro vi ricordo che a bordo di Huawei Mate 10 Pro c'è Android 8.0 e anche una nuova versione della MIUI quindi dell'interfaccia utente che è la 8.0 allora cos'altro possiamo dire? guardate questo è un telefono che abbiamo detto con ricezione ottima sia con il wifi che con la rete internet caratteristiche fondamentali beh ci sono le solite applicazioni vedete la bussola la calcolatrice tutte queste che vedete in grigio sono le applicazioni di default di Huawei avete ovviamente Huawei Health tutto quello essenzialmente a cui siamo abituati è vero non devo dire essenzialmente perché se no qualcuno di voi se la prende tutto quello a cui siamo abituati del mondo Huawei c'è tra l'altro se non ricordo male anche andiamo a pescare immediatamente anche questo dettaglio che stavo cercando non lo trovo più il telecomando adesso da qualche parte ci sarà perché c'è il sensore delle il sensore degli infrarossi sulla parte frontale del telefono adesso lo troverò da qualche parte ma se non lo trovo credo che comunque rimarremo ugualmente amici non mi toglierete il saluto almeno non subito aspetterete un paio di minuti per per farlo però insomma di fatto qui nella parte frontale c'è il sensore delle impronte digitali come al solito eccolo qua telecomando scusate che non che io tra l'altro uso tantissimo tanto è vero che non ho ancora iniziato a configurarlo insomma telefono veramente bello potente una batteria che mi aveva fatto spaventare all'inizio ma c'era un bug di Android per cui si scaricava velocissimamente invece adesso funziona alla perfezione e guardate io oggi non ho usato tanto il telefono però guardate a che punto siamo del consumo di batteria alle 16 e 39 non l'ho mai ricaricato anche solo il consumo in stand by tenendo conto appunto che non l'ho usato molto ha fatto un 20% quasi in una giornata intera bello bellissimo fotocamera con voto altissimo insomma se non vi piace neanche questo telefono ha la batteria a 4000 mAh ecco il dettaglio che avevo detto se non vi piace neanche questo telefono ci avete un brutto carattere e non se ne parla più a Grazie a tutti.